Ciao a tutti! Come si dimostra che la differenza tra il calore specifico a pressione costante e il calore specifico a volume costante è pari alla costante universale del gas ideale R? Dimostriamolo in un minuto. Qui abbiamo il piano di Clapeyton. Per dimostrarlo consideriamo uno stato A e uno stato B alla stessa temperatura. Posso andare dallo stato A allo stato B con una trasformazione isoterna. Oppure posso andare dallo stato A allo stato B con una sequenza di due trasformazioni, un'isobara seguita da un'isocora. Chiaramente essendo l'energia interna una funzione di stato, la variazione di energia interna tra il punto A e il punto B deve risultare la stessa, sia che si calcoli seguendo la prima trasformazione, la rossa, sia che si calcoli seguendo la seconda trasformazione. E allora calcoliamo questa variazione di energia interna nei due casi. Nell'esioterma B la variazione di energia interna è 0 perché l'energia interna dipende esclusivamente dalla temperatura. Nella trasformazione in blu calcoliamo la variazione di energia interna. Abbiamo una isobara AC, quindi avremo il calore dell'isobara meno il lavoro dell'isobara dal primo principio e poi abbiamo l'isocora. Il calore nella isobara è un calore assorbito e vale NCPΔTAC, che è un incremento di temperatura positivo, meno il lavoro prodotto da questa isobara che è pari a P per ΔV. Dobbiamo aggiungere più la variazione di energia interna nell'isocora. In generale per il primo principio è Q-L, ma in questo caso non abbiamo lavoro perché è un isocora, quindi abbiamo solo il calore che è pari a N per CV per ΔT da C a B. Notiamo che la variazione di temperatura tra C e B è uguale ed opposta alla variazione di temperatura tra A e C, quindi possiamo scrivere ΔTAC e cambiamo il segno davanti da più a meno per tener conto che è opposta. Ora osservo che per l'equazione di stato del gas ideale P per ΔV lo posso riscrivere come N per R per ΔT tra i punti A e C. A questo punto, facendo le semplificazioni, otteniamo che CP è uguale a R più CV, che è quello che volevamo dimostrare. Ciao a tutti e alla prossima!